Presentiamo questo Centro Formazione Pitagora? Certo, Centro Formazione Pitagora è un'agenzia formativa che nasce da una idea della proprietà della compagine sociale nel 2000. Quindi dal 2000 noi abbiamo ottenuto tutti gli accreditamenti, eroghiamo formazione continua, formazione superiore e formazione legata all'obbligo formativo o istruzione e formazione professionale. Quali sono i settori principali di questa formazione? Diciamo che gli accreditamenti che abbiamo di tutte e tre le macro tipologie ci consentono di erogare formazione a 360 gradi sia nei confronti dei dipendenti assunti attraverso la formazione continua, la riqualificazione professionale, i corsi di apprendistato, i corsi legati ai fondi interprofessionali. Poi abbiamo invece i corsi rivolti ai ragazzi dai 14 ai 18 anni che sono quelli equiparati al triennio del secondo ciclo di istruzione ma che consentono ai ragazzi di acquisire una qualifica professionale e imparare un mestiere. Dobbiamo dire che le politiche del lavoro sono fondamentali perché chi frequenta il corso ha una formazione importante ma ha anche la possibilità poi di inserirsi nel mondo del lavoro. Sì infatti il corso è rivolto a 12 donne che sono sia disoccupate ma anche occupate e senza limiti di età ovviamente residenti nel territorio della regione Calabria. Quindi ha un'importanza di formazione per ovviamente sia il loro futuro lavorativo però anche per avviare una propria idea di impresa. Quindi è importante anche perché da luglio ci dovrebbe essere anche la nuova riforma sul lavoro che garantirà ovviamente anche un aiuto alle imprese che vogliono assumere nuovo personale. Le donne di Crotone e del territorio sono attenti a questi corsi e si rendono conto dell'importanza che può essere per loro? Allora su questo punto noi abbiamo avuto una buona risposta, abbiamo avuto circa 50 candidature di donne però molte non hanno ancora idea di che cosa vogliono fare anche perché parliamo del territorio calabrese e soprattutto crotonese dove c'è un altro tasso di disoccupazione femminile e la nostra mission è anche quella di cercare di dare un valore aggiunto a questi percorsi per garantire la formazione di donne che nel futuro sapranno cosa vogliono fare e come possono realizzarlo soprattutto.